Il momento dovevano comporre l'Europa vuol dire che c'è un minimo comune denominatore che nasce ben prima delle intuizioni e delle realizzazioni pratiche di Alcide De Caspi, del Sommo Europeo. Grazie. Possiamo dire che la cattedrale di Strasburgo è un patrimonio soltanto francese, possiamo dire che il Colossè è un patrimonio soltanto della città di Roma, non possiamo dire che c'è una serbante se è un patrimonio soltanto culturale spagnolo, è figlio di una cultura cristiana indipendentemente dall'essere credente o viva, anche ben detto croce che era un liberale, cioè non possiamo non dirci cristiani. Ma c'è in dubbio il suo viaggio a Parigi perché c'è chi dice che possa essere in dubbio? Certo, parole inaccettabili, quelle che sono state pronunciate dal ministro dell'interno francese, vedremo. Lei quindi ancora decide se andare o no? Vedremo, vedremo, vedremo.